Tornano alti i valori dello smog a Pescara. Una settimana dallo stop delle auto con l'ordinanza sulle targhe alterne, l'amministrazione comunale fa sapere di non avere intenzione di reintrodurre la restrizione che tante polemiche aveva scaturito, ma al contempo di essere al vaglio di alternative utili a ridurre il fenomeno. Ci troviamo in una fase sicuramente negativa, però dopo un periodo dovuto sia all'intervento che è stato fatto nella settimana scorsa e sia anche al tempo che ha portato pioggia, neve e vento che ha spazzato via un po' le micropolveri sulla città. Si pensa alle domeniche ecologiche come strumento da introdurre per rendere meno problematica la viabilità per i lavoratori e gli studenti, ma resta di fatto un problema causato da due fattori, da un lato le emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento e dall'altra l'alta affluenza di vetture che ogni giorno attraversano Pescara. Stiamo riprendendo le operazioni di lavaggio delle strade, più altre iniziative, comprese quelle che sono le domeniche ecologiche per l'impatto che queste possono avere. Sicuramente vedremo l'evolvere della situazione e ci auguriamo che le condizioni migliorino per evitare provvedimenti drastici o provvedimenti che comunque devono tenere sotto controllo la qualità dell'aria.